Amici di Tele1, siamo quest'oggi ospiti della concessionaria Opel Aversente, situata in contrada a Cedonia di Lettieri, nell'area urbana di Corigliano, della città di Corigliano Rossano. Siamo in gradita compagnia di Antonio Zampino, consulente alle vendite della medesima concessionaria, nonché specialista in veicoli commerciali. Grazie Antonio, siamo qui per parlare di una significativa novità in casa Opel, un'auto dal design rivoluzionario, che proprio qui è stata consegnata tra le prime in Italia. Sì, nei giorni scorsi abbiamo presentato la nuova Opel Mokka, che è qui alle nostre spalle, e tra l'altro siamo felici di essere stati tra i primi in Italia a consegnare la prima Mokka, che sarebbe il modello totalmente elettrico, quindi non ha un motore a combustione interna, ma è soltanto alimentato dalle batterie. Oltre alla motorizzazione elettrica, Mokka presenta anche dei motori termici, abbiamo 1.2 benzina da 100 cavalli, lo stesso motore 1.2 benzina viene proposto anche con una potenza di motore da 130 cavalli, anche con cambio automatico e sequenziale a 8 rapporti. Inoltre è prevista anche una motorizzazione diesel, 1.5 da 110 cavalli, che sarà disponibile da qui a breve. Antonio, lei è uno dei degni rappresentanti di quel binomio fra competenze e professionalità che costituisce uno dei punti di forza della concessionaria Opel Aversente e più in generale dell'intero gruppo Aversente. Non a caso, nelle settimane scorse abbiamo dato menzione di un premio importante a livello nazionale che è stato proprio conferito alla concessionaria Opel Aversente. Sì, diciamo che abbiamo avuto il piacere di ricevere questo premio nazionale, siamo risultati i primi in Italia in merito alla penetrazione rateale sul nostro venduto. È un riconoscimento importante perché è un riconoscimento appunto a livello nazionale che ci ripaga del lavoro, della costanza che ogni giorno impieghiamo qui in concessionaria con i nostri clienti. Antonio, un'ultima domanda che abbiamo rivolto il medesimo quesito nei giorni scorsi proprio all'amministratore della concessionaria Opel Aversente, a Francesco Aversente. Come è importante, mai come in questo momento che si parla tanto di cultura dell'ambiente, di rispetto dell'ambiente, diffondere la cultura, quindi promozionare la cultura dei auto che sappiano insieme contemperare appunto la cultura dell'ambiente con l'innovazione e il risparmio energetico? Moké è proprio l'esempio emblematico di tutto ciò, in quanto è una vettura ad emissioni zero, quindi non è un motore ibrido ma è un totalmente elettrico, quindi zero emissioni. Inoltre è una vettura che sprigiona ben 136 cavalli, quindi ha delle prestazioni pure molto alte. E ricordiamoci soprattutto che ha un'autonomia estesa, in quanto porta fino a 324 chilometri di autonomia. Ormai ricaricare una vettura è molto semplice, perché ci sono tante colonnine in tutte le città d'Italia, nonché d'Europa, ma oltretutto Moké può essere anche ricaricata dalla presa domestica, quindi basta avere accesso a una semplice presa domestica e si può caricare tranquillamente anche da casa. I prezzi di partenza di Moké, oggi nuova Moké parte da 16.700 euro, grazie anche ai contributi statali in merito alla rottamazione, che ricordiamo sono quasi a termine, quindi diciamo che ancora per pochi giorni riusciremo a offrire il nuovo modello di Moké a 16.700 euro su motorizzazione e benzina.